Vieni Davide vieni Davide vieni è tutta plastica e poi il tirolo No no non vi preoccupate è che sono tutti cartoni guarda potrebbe essere differenziato io dico che comunque puzzano insieme alla roba dopo perché sono tutti i palli che noi paghiamo per farli prendere e se non si vengono a prendere li riprendo io guarda guarda è tutta roba da riciclare guarda è tutta roba riciclabile guarda quanti cartoni bottigli guarda quanti cartoni perché poi vorrei capire da dove arriva tutta questa roba guarda qui